...davvero speciale, sta facendo il giro del mondo di Mimoto in tutta Italia per raccogliere i fondi per una causa sostenuta anche dal Ministero della Gioventura che abbiamo incontrato. Lui si chiama Simone Severini, è di Tor Maianica, vicino a Roma, di professione fra il pasticcere, ma in Italia lo si conosce per un motivo molto particolare. Per il secondo anno Simone sta facendo il giro d'Italia in moto per solidarietà. In 15 giorni si ferma per tappe programmate su e giù per lo stivale per sensibilizzare cittadini e motociclisti come lui sul tema della pedofilia. L'iniziativa, patrocinata dal Ministero della Gioventù, è volta a raccogliere fondi per una casa famiglia Chiara e Francesco di Tor Maianica, associazione Onlus che ospita bambini da 4 a 14 anni in costituzione di rischio familiare e sociale. Simone Severini si abbade della collaborazione dei motoclub locali e il suo rientro è previsto per sabato 17 luglio. Quest'idea è nata per una problematica molto intensa. La pedofilia e la pedopornografia è un problema molto attuale. All'interno del mio territorio c'è una casa famiglia che purtroppo è coinvolta in prima persona. Il riscontro che io posso dare è unire la mia passione, la mia motocicletta. Il gesto del motociclista è cercare di unire i motociclisti a livello nazionale. Invece di fare un motoraduno e prendere solo una piccola parte di motociclisti della zona, sono io che tappa dopo tappa dopo tappa dopo tappa giro l'Italia lungo e largo proprio per unire il mondo motociclistico, la passione motociclistica in un unico solo evento. Questo ha fatto sì che ha fatto muovere la simpatia dell'onorevole ministro Giorgia Meloni che ci ha dato il patrocinio con una copartecipazione. Quindi abbiamo una sorta di piccola aiuto economico con una 1198S, una motocicletta che di turistico non ha niente. È la stessa motocicletta che è ben usata per la superbike, per momenti sportivi estremi. Pietro Respaglio ha questa borsa da oltre 40 kg. Io sono Simone Severini e più di questo è il gesto quello che è questo. Qual è la risposta dei motociclisti d'Italia? Beh, devo dire che ieri sono uscito dal traghetto di Cagliari e mi sono trovato 102 motociclisti che mi hanno sportato fino al comune di Siniscola. Il comune di Siniscola mi ha fatto trovare una festicciola, una cosa abbastanza raccolta. Oggi sono qui ad Alessandria, domani siamo a Venezia. Un viaggio qui via Timone e vi chiediamo a seguire il speciale stasera alle 19.30. Adesso andiamo a casare.